Un altro strumento essenziale per la ricerca oceanografica e soprattutto per la geofisica marina è il side scan sonar. Questo strumento permette tramite l'invio di onde acustiche di discernere la tipologia di fondale se un fondale è duro o immobile e se è il caso in cui è immobile se fangoso o sabbioso. Diventa essenziale quando il multibeam riesce a restituire un dato di alta qualità. Ci permette di avere un dettaglio di circa 20 cm del fondale marino e quindi di percepire tutte quelle che sono le caratteristiche ambientali che servono alla ricerca oceanografica.